Musica Facciamo vedere con le formine come realizziamo i nostri biscotti Sì, io volevo far vedere che in commercio esistono queste formine molto carine non so se riusciamo ad inquadrarle un pochino che hanno già il decoro disegnato all'interno e questo è di aiuto soprattutto per i principianti che tentano di decorare queste cose perché ci danno già un disegno io ho la pallina, ho il pupazzo di neve e ci aiutano un po' ad avere un prodotto migliore quindi questi li troviamo tranquillamente Sì, li troviamo, si trovano, io l'ho trovato in un negozietto tranquillissimo di quelli per la casa vi faccio vedere perché poi il problema fondamentale è l'estrazione della pasta da questo biscotto ora, io ho la pasta un pochino troppo morbida voi dovete fare attenzione a premere un pochino comunque sul fondo per il modo che vi venga anche il disegno lo sbattete sul tavolo e vi viene già con la sagomina che questo vi aiuterà per realizzare il decoro questi altri è classico a me chiaramente si sta attaccando un po' sul fondo vediamo se abbiamo... Sì, perché siamo proprio a temperatura caraibica non abbiamo la spatolina quindi ci adattiamo e vi faccio vedere anche eventualmente un pupazzo di neve la stessa cosa, io faccio comunque un po' di pressione in questo caso col fatto che io ho la pasta un pochino più umida e mi è rimasta attaccata sul fondo non è sbagliato perché così possiamo ritagliare la pasta intorno senza aver paura poi che non si stacca e con una spatolina la solleviamo e li mettiamo sulla teglia la teglia preferibilmente con un po' di carta da forno se pensate che non possa essere abbastanza antiaderente oppure va bene anche così ve le posizionate e non hanno bisogno di essere molto distanziati perché la pasta non tenderà poi a ricrescere molto in forno e quindi potete andare in questo caso cuoceranno insomma più o meno una decina di minuti abbiamo detto a secondo del forno tra i 160 e i 180 gradi perfetto, quindi questi qui andrebbero messi in forno chiaramente noi ci siamo avvantaggiati abbiamo già i biscotti pronti Valentina alcuni li ha già decorati però ci farà vedere per esempio questi angioletti che sono quelli che sono rimasti da decorare e poi faremo vedere proprio le palline su cui si possono fare l'escrizione per fare proprio il classico segnaposto io ho fatto anche degli alberelli poi volevo far vederli anche piccolini per dare in modo la possibilità magari di metterli non so sparsi sulla tavola che è un'idea carina magari perché così ogni tanto qualcuno ruba un biscottino e lo mangia anche durante la cena che effettivamente un po' di dolce ogni tanto ci sta io mi ero preparata delle glasse colorate della glasse reale divisa nelle varie vaschette me l'ero colorata con i coloranti alimentari possibilmente in gel che sono i migliori me la sto ammorbidendo mi sono fatta comunque delle piccole penne di carta per poter poi decorare con la parte più solida ne sto facendo una parte più liquida che mi servirà per creare questa superficie compatta e omogenea che vedete nei biscotti che sarà quella che poi una volta asciutta ci darà modo di decorare sopra quando la glassa è troppo asciutta ci si aggiunge semplicemente un pochino di acqua sì, io in questo caso ho tenuto da parte quella più solida per fare la parte scritta la parte più decorata dove ci deve essere un po' di rilievo il resto me la sto comunque ammorbidendo in modo che passo a decorare il biscotto il biscotto io ho precedentemente con un cartocetto più solido della glassa ho fatto i contorni in questo caso ho delineato anche le ali dovendo dare un po' di forma ondulata delle ali le ho preparate precedentemente in questo caso mi aiuto con un cucchiaino perché la superficie me lo consente se fosse troppo piccola potrei pensare anche di mettere la glassa eventualmente in un cartoccino ecco tanto preparo il piatto e a questo punto noi dovremmo avere un po' di tempo d'attesa per passare alla parte successiva perché poi dopo sopra ci dobbiamo decorare noi facciamo vedere una scritta così facciamo vedere come dovrebbero venire se lo utilizziamo come il segno a posto ce l'abbiamo le forbicina? facciamo con un coltello senza problemi mi taglio la punta ah va vale ora un pochino più me la provo la punta se mi piace come dimensione non fatela mai troppo grande cominciate sempre da uno piccolino magari un foro più piccolino vediamo la scritta scriviamo proviamo a scrivere Beatrice la palla carino però l'idea è molto molto bella pensando anche alla tavola sicuramente agevole il clima sì poi potete scegliere se metterli in un sacchetto e eventualmente a legarlo al tovagliolo o non so fare qualche altro tipo di decoro o poggiarlo direttamente sul piatto di portata insomma abbiamo un pochino di opzioni da poter fare molto bene questo intanto io lo metto qua grazie a tutti